Ancora quattro ore e mezza e l'Abruzzo per 16 giorni sarà chiuso, non del tutto ma comunque chiuso. Vero è che una sorta di lockdown orario era già scattato una settimana fa. Bar e ristoranti chiusi dalle 18, coprifuoco dalle 22 alle 5, ma vero è anche che dalla mezzanotte le restrizioni si inaspiranno ed aumenteranno i controlli. Sum mette stamane in prefettura Pescara con tutte le forze che saranno in strada e a quanto si apprende a scadenza settimanale si ripeterà il vertice per tutti i 16 giorni di zona russa. Rimodulazione dei controlli è la parola d'ordine, anche se rende noto il prefetto Giancarlo Di Vincenzo. A Pescara in questi giorni di stretta parziale si è notata una responsabilizzazione generale della cittadinanza, lì già le restrizioni. Chiaro che Polizia di Stato e Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza nell'area Pescara, Spoltore e Città Sant'Angelo saranno comunque in forze su strada, ma chiaro anche, ed il prefetto Di Vincenzo lo ricorda e sottolinea, che il fulcro dell'osservanza alle regole non sta nei controlli pure presenti e necessari, ma nell'autocontrollo di ciascuno. Come sempre dovrebbe essere, viene da dire, come invece spesso non è stato, nemmeno in tempo di Covid.